A Cervano vicino a Toscolano Maderno incontriamo Alexandra Rieger che ci ha fatto conoscere i cavalli, ci ha fatto incontrare il dolore interno e ci ha fatto scoprire il modo di vincere questo dolore e stare meglio, per vivere meglio, per superare delle emozioni negative e vivere bene la felicità e questo modo di sciogliere il corpo di dolore ci porta a vivere la vita che noi vorremmo vivere e ci porta alla felicità, alla libertà e di vivere dalla nostra parte autentica e appunto il cavallo in questo lavoro funge da maestro, da catalizzatore per arrivare alle emozioni che ormai magari sono repressa nell'incongio e conoscendo ciò che vive nell'incongio sono in grado di cambiare, modificare, di sciogliere perché con questo lavoro sciogliamo proprio il corpo di dolore che è un insieme di tutte le memorie, esperienze che abbiamo fatto nell'arco della nostra vita a livello cosciente e incosciente. Questa teoria deriva? Questo il nome corpo di dolore è stato creato da Eckhart Tolle, un filosofo, un maestro spirituale del nostro tempo che ha scritto il libro Il potere di adesso e Un nuovo mondo e lui parla del corpo di dolore e spiega come le emozioni non elaborate, non coscienti fanno parte man mano del corpo di dolore e questo corpo di dolore ci manipola nella direzione della sua qualità. Il corpo di dolore lo esprime già e spesso appunto è un dolore, sono dolori che noi abbiamo accumulati, che non conosciamo più, però ci influenzano e ci fanno vivere delle situazioni che non vorremmo. L'unico modo per liberarci e per andare come dici tu verso una libertà, verso una gioia, verso una vita che vorremmo vivere dobbiamo sciogliere questo corpo di dolore. Il cavallo ci aiuta con la sua naturalità, con la sua capacità di percepire le nostre emozioni, le nostre stesse ed affrontarle. Il cavallo in questo caso diventa catalizzatore per arrivare immediatamente a ciò che posso elaborare adesso, a ciò che posso liberare adesso. In questo caso posso man mano che affronto questo modo di fare, di comportarmi con questo corpo di dolore, posso man mano sciogliere i contenuti, lasciarli andare in modo di diventare conto sempre più libera. Per far conoscere questa tecnica e far vivere questa esperienza, come si deve fare? Allora, se l'indirizzo c'è su internet www.raidoinocorsis.com, ci sono tutte le informazioni, le varie formazioni e corsi. Benissimo, è stata una bellissima esperienza e speriamo di incontrarci presto. Grazie, grazie di essere qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.